E' un nuovo giorno! Un nuovo inizio! Assisteremo alla completa distruzione dei nostri nemici. Salute! Salute! Pronto? Ho bisogno di te per un lavoro. Ma che stai dicendo? Dov'è mio figlio? Papà, che sta succedendo? Io lavoravo per un'agenzia di intelligence. Ero una specie di soldato delle forze speciali. Sappiamo che riuscirei a gestire questa situazione, ne siamo sicuri. Aspetta, vediamo se riesco a indominare. Devo ucciderli tutti, vero? Questo è l'unico modo che hai per rivedere tuo figlio. Vogliono che faccia ai loro nemici quello che ho fatto ai miei. E quando avrò finito, verrò a prenderti. Ora porta il tuo culo lì dentro e gioca ad ammazzare il figlio di puttana. Ottimo lavoro, amico mio. Se tocchi anche un solo capello a mio figlio, ti uccido. Abbiamo suo figlio. Sì, lo so, ed è proprio questo che li preoccupa. Io so che hai paura. Mio padre ti ucciderà. Quindi loro ti hanno costretto a farlo? Ha preso mio figlio.